Daniele.tech, opinioni in open source Buon salve a tutti, siamo alla ventesesima puntata Sembrano passati qualche mese ed effettivamente lo è E anche questo mese abbiamo alcune notizie che vale la pena commentare Quindi non perdiamo tempo e diamoci subito sotto Ora, c'è stato questo grande casino su ERC Non so quanti di voi l'hanno mai utilizzato, gli piace o tutto il resto Questa soluzione di chat che ad oggi è molto... Si sentono, si vedono gli anni di età che ha questa tecnologia Infatti oramai ha un utilizzo sempre più minore Ed è più complica ad utilizzarlo sugli strumenti nuovi Per via delle varie integrazioni Beh, che è successo? Ne abbiamo già parlato credo la puntata scorsa Ovvero di FreeNode che è sempre stato il server di riferimento per utilizzare ERC Non è che era ERC, era un server di riferimento Ha cambiato proprietario, hanno praticamente cacciato tutti i proprietari dei canali Ha cambiato il proprietario del server E tutti i canali che avevano su questa chat ERC Proprietari dei canali sono stati cacciati brutalmente ovunque Quindi in chat trovate tre tweet diversi di tre progetti diversi Come ad esempio Fosdem, Curl e XtBug Che sono stati cacciati dai rispettivi canali che sono utilizzati da forse più di un decennio E vi lascio anche il link di quest'analisi che spiega un po' come è stato questo comportamento Ovvero loro hanno preso e cacciato tutti quanti i canali Che nel nome e nella descrizione menzionavano il nuovo servizio libera.chat Che è alternativo a FreeNode Tant'è che FSFE è il canale lì e ancora non riesco ad entrarci tramite Matrix Per dire quanto può essere complicato oggi dover gestire tutte queste soluzioni E c'è tutto questo casino, fermento possiamo dire, nel mondo delle chat Perché c'è ancora chi vuole utilizzare ERC, comprensibilissimo Però ha complicazioni ed è questo un esempio Ovvero si fa casa da un server che è sempre stato gestito da volontari Ma proprietario di un'azienda Ed ecco cosa succede quando il dominio non è di una fondazione Prendi e vieni cacciato, brutalmente Però il che è brutalmente è la definizione corretta Siccome stiamo parlando però di brutalmente Ti metto il link che in questi giorni sta girando tantissimo Di questa cosa genialata del Netflix della cultura italiana Non so se l'avete già sentito parlare questo It's Art di Franceschini che è un flop Io l'avevo già commentato come flop Perché creare una nuova piattaforma Stavolta solo pezzata per il pubblico estero Quando tu hai Rayplay che per una cosa che abbiamo che funziona Ne facciamo un'altra Beh c'è tutto quest'articolo che snocciola tutti i problemi Sia tecnici che non Di questa piattaforma Dal materiale eccetera Io vi dico Rayplay è molto meglio Anche perché c'è l'integrazione con YouTube Download Ti prendi e ti fa scaricare tutto quello che ti pare Che non è male Per chi è come me piace seguirsi Passato e presente O Alberto Angela Prende e si scarica tutta la serie completamente E parlando sempre di cose che non hanno senso Perché questa del Netflix della cultura italiana Non ha senso Quando hai già Rayplay che dopo tutto è pagata Con i soldi nostri Sempre il canone Abbiamo Glimpse Che per me era già una cavolata tremenda Quando è uscito Ovvero GIMP Immagino che tutti voi lo conosciate È uno strumento di fotoritocco Ora E nella slang americana È una parolaccia pare La parola GIMP Quindi questi qui hanno preso e fatto un fork di GIMP Solo per togliere e cambiare il nome Sta di fatto che GIMP però è una sigla È nato in Germania È stato uno dei primi software open source Poi con l'interfaccia grafica Grazie a lui si hanno Le GTK servivano per fare GIMP Quindi GIMP è alla base di tante cose oggi come storia Beh ha chiuso bottega Perché praticamente tutti i sviluppatori sono spariti Questo mi ricorda sempre che i proclami rimangono sempre lì E non hanno Sono molto fine a se stessi Se non c'è veramente un motivo Non tanto Dobbiamo cambiare il nome Ma un motivo Perché lo stiamo facendo Porta dei benefici No ma dobbiamo cambiare il nome Ecco il risultato dopo qualche anno E visto che parliamo di qualche anno Vi parlo Ci sono due notizie adesso che vediamo Del mondo Mozilla Ora Ne abbiamo già parlato molto tempo fa Di questa tecnologia Ovvero Le estensioni per i browser Da diversi anni Si basano sulla tecnologia Del web extension Sono nate nel mondo di WebKit Ovvero Chrome E poi sono state diffuse Negli altri browser derivati Ma anche in Firefox Che utilizza la stessa tecnologia Da chi programma queste estensioni per i browser Ne ha diverse Fatte anche per Chrome Vi posso dire che c'è una differenza Che questo era Il piano era di diventare uno standard Il problema di Chrome È che è fatta male È incompleta E rispetto a quella di Firefox È veramente castrata Firefox ha aggiunto moltissime altre cose E qualche tempo fa uscita questa notizia Che loro vogliono cambiare Il formato Del manifest Il manifest in questa tecnologia È tipo la carta entità Che specifica come l'estensione Si deve comportare Con le varie File da caricare Queste cose qui E siccome Chrome ha implementato Tutte queste cose nuove Perché deve far sopravvivere gli ads Il nuovo formato di questo file Cambia completamente le cose E deprega alcune funzionalità Che servono proprio per bloccare gli ads Come ad esempio Quella di poter intercettare Tutte le richieste web Che avvengono in una pagina Questa l'estensione per gli ads La utilizzano per bloccare A seconda da dove vengono Blah 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 Beh Il nuovo formato Manifest 3 La nuova versione Disabilita questa caratteristica Chrome quindi Di conseguenza Sarà castrato Ancora di più Perché Se l'avevo già condiviso Le differenze tra i adblocker Su Chrome e Firefox Per la stessa estensione Che su Chrome Certe cose non le possono fare Su Firefox sì E praticamente questo nuovo formato Mozilla ha detto Che lo supporterà Ma non deprecherà Tutte queste cose Che sta facendo Chrome Questo da un punto di vista Per agevolare Noi sviluppatori In modo tale Che ne facciamo una E funziona ovunque E su Chrome Se la prenderanno in saccoccia Per usare L'altro termine Tecnico E visto che parliamo Dicevo un'altra notizia Del mondo Firefox Abbiamo parlato Proprio la settimana scorsa Della funzionalità Di traduzione Integrata In Firefox Che non è online Ma Un software locale Che sviluppato Insieme alla comunità europea Non ha ancora Il supporto per italiano Per gli utenti Natalie Come me Di Firefox Potranno abilitare Questa funzionalità E provarla Quindi da oggi È integrata nativamente Dentro Firefox Significa che è pronta Assolutamente no Perché se no Non era nella Natalie Quindi è molto presto Anche perché Abbiamo supporto L'inglese Il tedesco E l'estone Mi sa Quindi non è Se l'Unione Europea Ha 27 lingue Diciamo che non è completa A parte diciamo Il problema dell'italiano E visto che Poi è una cosa Interessantissima Perché compete Col mondo di Chrome Di Google Perché Non utilizza un servizio Online È tutto il locale Vi parlo di un'altra cosa È locale Ora Non so quanti di voi Sono drogati Come me Della linea di comando Su Linux Bene La linea di comando È utilissima Ci sono questi comandi Che sono gli stessi Da tempi di Unix Da 30 anni o più Non sono cambiati Più di tanto Però Ad oggi Hanno delle pecche Ad esempio Vi faccio esempio stupido Non riconoscono I file di git Oppure Non sono colorati Gli output Che scrivono Non sono rapidi E quindi Nel tempo Grazie a questi Nuovi linguaggi Tipo Rust E Go Sono nate Delle alternative Compatibili In senso Di parametri Che utilizzano Ma anche di output Che generano Con I vecchi comandi Come LS Che c'è Hexa Che Prende Di colora In automatico Ignora i file In base Ai file Di versionamento Come git Ignora Ad esempio Oppure ci sta BAT Che è un'alternativa A CAT Che colora L'output Che riconosce An automatico I file Che sono Di linguaggi Ad esempio Mette anche Numeri di linea Eccetera Ci sta L'alternativa A grep Che è Rip grep O Ce ne stanno Più di una Che sono Molto più rapidi E poi ci sono Anche soluzioni Come FZF Che però Non è un Revrite Proprio Di un altro Strumento Beh vi lascio Il link Ad un elenco Di questi strumenti Che io alcuni Gero utilizzo Ho messo Tutti gli alias Sulla mia Bash E li utilizzo Senza problemi Anzi C'è un miglioramento Della qualità Della vita Che non è da poco Vi lascio Anche un tweet Di questo mondo Hacking Che sempre escono Cose interessanti C'è questo Hacker che ha detto Vediamo se riuscite A identificare Dove mi trovo Ha fatto una foto E beh c'è uno Che ha preso Della foto Ha fatto tutta la serie Tweet e risposta Che ha smontato La foto Da riuscire a trovare Posizioni geografiche Solo analizzando I componenti Della foto Un po' per ricordarci Sempre che La foto è bella Ma non possiamo mai Fidarci di internet Fino a un certo punto Perché in un modo Nell'altro Ci si ritrova Dentro casa E direi però A questo punto Di passare completamente Al mondo italiano Perché ho molti link Di cose Che vi potrebbero Interessare Innanzitutto Partiamo con un link Del forum Questo che vi ho già Messo altre volte Ovvero questa analisi Sulle statistiche Sulla pubblicazione In formati aperti Da parte Della pubblica amministrazione Ovvero Una scansione Di una miriade Di domini Di comuni E altri enti Per verificare In che formato Rilasciano i documenti Che secondo il CAD Potrebbero seguire Tutta una serie di regole È un lavoro Che richiede gente Che dia una mano Anche solo per fare Il documento Di raccolta Di tutte queste informazioni Che saltano fuori Ma sta andando avanti Escono sempre più informazioni Come ad esempio Le varie versioni Dei documenti Microsoft Che sono utilizzate Ovvero Gli OXML Che nessuno di questi È quello standard Tra l'altro Perché non è standard Di per sé Formato di Microsoft Se non attiva Salvandolo in un certo modo C'è anche questo contest Perché Linux Day Si sta avvicinando È ottobre E già si è definito Il tema L'abbiamo detto La scorsa puntata Che è Dati a chi E beh È stato lanciato il contest Per fare la grafica Dei bannerini Dei Linux Day Quindi Fate girare la voce Se qualcuno ci si vuole divertire Perché c'è bisogno Proprio di aiuto L'associazione La comunità Bisogna di tutti Non fate i passivi Ma fate gli attivi Sembra un motto Di qualche yogurt O cose di questo tipo Però vi voglio lasciare Anche due link Della Movimento Forse Del Non so bene Come chiamarlo Movimento è Sbagliato Potremmo chiamarlo Potremmo chiamarlo Campagna Di Datibenecomune .it Che è questo Diciamo Raccolta di associazioni Proprio Per fare Non dico Lobby O cartello Ma per fare Sensibilizzazione E segnalare Tutti quei casi In cui i dati A livello statale Non sono condivisi In modo giusto Corretto Eccetera Ci sono due esempi Quello di cui vi ho parlato La puntata scorsa Ovvero Che il ministero Della salute Ha cambiato licenza A tutti i documenti Perché Prima non erano Diciamo Inconsoni E la stessa cosa È successo Con i verbali Del convidato Tecnico scientifico Che da Da quando c'è Diciamo Sono disponibili Su github Però erano sempre state Per mesi E oramai quasi un anno Scansioni Di documenti Iscritti a computer E con tutti Quei problemi Che comportano Questa cosa Che non possono Leggere le macchine Che non sono accessibili E da adesso E da adesso Sono anche accessibili Quindi non sono più Scansioni Questo perché Loro hanno rotto Le scatole E segnalato Questi problemi Quindi vi lascio I link Come anche questo link Dell'associazione Ondata Che è un'analisi Su quanto è disfuso Speed Su tutto il paese Con i numeri E la cosa interessante È che c'è stata L'impennata di Speed Grazie al cashback Ad oggi ce l'hanno 20 milioni di italiani Speed E con il cashback Era necessario Avere Speed Quindi quando si tratta Di soldi Vedi che la gente Si sveglia tutto insieme E quindi si sono messi A fare Speed C'è proprio questa Impernata del grafico Che neanche una panda Con l'aria in corsa Avrebbe potuto raggiungere Ma una panda Proprio svuota Con gli alettoni E tutto il resto A 180 Avrebbe potuto fare Ma neanche loro E visto che stiamo Avvicinandoci alla fine Voglio parlarvi Del resoconto Mio mensile Che oramai Se siete abituati A queste puntate Ce n'è sempre uno Ogni mese Che pubblico Sul mio blog Oramai da quasi tre anni Sulle mie attività In ambito open source E questo mese Ci sono varie cose A parte perché C'è stato il Mergit E anche perché Ho fatto vari contributi A livello di codice Possiamo dire Su vari progetti Di ILS Ovvero di Italia Linux Society Ma anche perché Abbiamo chiuso Alcune cose In Mozilla Italia Come il Contest Che è stato definitivamente Finito Finito il 31 aprile A maggio Ho fatto le ultime spedizioni Quindi ad oggi È finita tutto questo E nel mio resoconto Quindi ci sono tutti I vari link Per approfondire Varie cose Anche altre idee Che ho lanciato Per farvi capire Un po' Che è quello Che mi occupo Perché la gente Spesso non capisce Quello che faccio Che è tutto Da volontario E il resoconto Pensile serve Anche a questo Per capire Effettivamente Quello che Faccio E siccome C'è stato il Mergit Avevamo messo il link La volta scorsa Ve lo rimetto Anche questa volta Il lungo resoconto Organizzativo Del Mergit 2021 Con tutti i problemi Che secondo me Ci sono In un'organizzazione E siccome adesso Sono pronto per fare L'altro resoconto Ovvero Il resoconto Di tutte Le sessioni Cosa significa Io mi sono guardato Tutte e sei le sessioni Comeridiane Fortunatamente La velocità 1x o 2x Aiuta tantissimo E ho preso appunti Ho una pagina Di appunti Per sessioni Per sessione Che voglio Trascrivere Perché escono fuori Moltissimi spunti Su cose Che si possono fare Insieme Tra le varie comunità E quindi Voglio Vedere Se riusciamo A fare una quadra Non solo Quali sono le necessità Di un gruppo Così Ederogeneo Di varie realtà Diverse Ma anche Cosa possiamo fare Tra di noi Per aiutarci Per portare avanti Insomma Quelle che sono Le libertà digitali Ma anche L'open source E queste due cose Secondo me Non vanno distinte Vanno a bracetto Tra di loro Perché sono due facce Della stessa Medaglia E quindi Vi metto anche il link Alla riunione mensile Perché mi è stato chiesto Per la puntata Scorsa del podcast Che non l'avevo messo L'ho solo detto a voce Che è onlinemergit.net Lo trovate sempre In descrizione Ricordatevi che tutte le puntate Del podcast C'è la descrizione Con tutti i link Per approfondire Quello che dico Forse spesso Anche in modo Un po' Molto veloce Trovate il link Perché la prossima riunione Dovrebbe essere È giovedì prossimo Visto che adesso Siamo a maggio Cioè da domani Siamo a maggio O è già oggi maggio Onestamente Non me lo ricordo No è già da oggi maggio Siccome è il secondo Giovedì del Bese Abbiamo la riunione serale Trovate il link Per il gruppo Telegram Che è privato E c'è anche il link Alla letter Infatti Che ho già preparato Con l'ordine del giorno Che penso Con varie idee Che sono saltate fuori Proprio notando Tutto quello Che è stato discusso Al Mergit E secondo me Dal Mergit Del 22 aprile Escono fuori Alcuni spunti Cioè sono uscite fuori Da tutte le sessioni Sempre gli stessi problemi Quindi che io riassunto In C'è il problema Della promozione E divulgazione Al di fuori Del nostro mondo Tech Fediverso Informatico Chiamatelo come volete C'è il problema Di fare rete Tra le varie realtà Che non significa Fare solo un tweet Ma fare le cose insieme Che non sia solo un evento Creare consapevolezza Nelle persone È importante Perché tante cose Ad oggi in Italia Sono bloccate E limitate Da tutto questo E basta E dico basta Credo che mi farò Una maglietta Basta con il parlare Della sola filosofia Dietro il fos Perché con quella Non cambi Le idee A nessuno Sono solo Chiacchiere da bar Servono altre motivazioni Per convoggere la gente E fargli cambiare l'idea Su tutto quello Che hanno di fronte Perché sempre rifare Gli soliti pipponi Come dice anche il termine Anche questo Sempre tecnico Finiscono Nel dimenticatoio E la gente Rivede come Un fomentato E basta E non servono I fomentati Servono le persone Che fanno le cose E io lo vedo Già in Eats Cioè in Italia Molto più serio E che non voglia Solo fare Seguire le notizie Ma anche Essere parte Delle notizie E beh manca Questa gente E secondo me Dovremmo incominciare A lavorare Da questo punto di vista Infatti Nell'ordine del giorno Ci sono vari esempi Perché ho lanciato Anche l'idea Di questo portale Per aggregare Una sorta di rubrica Di persone In base ai loro Interessi E comunità C'è anche l'idea Che adesso Ve la lancio in anteprima Ma se ne parlerà La riunione Del mese prossimo Io vorrei creare Un gruppo Di promozione Del mondo FOS Italiano Che cosa vuol dire Un gruppo Eterogeneo Di persone Dove noi abbiamo Una notizia Dalla comunità X O di un Lug X Eccetera Che una volta Condiviso lì dentro Venga poi rilanciato Su tutte le varie testate Che siano nazionali O meno O tecniche Perché a noi ci manca Cioè il proprio problema Di far sapere le cose Al di fuori Del nostro circoletto Del parco E' un problema Che purtroppo Richiede gente Che faccia marketing Che abbia contatti Che ovviamente Nel nostro mondo Ce n'è poco E niente Un po' come La pizza All'ananas In Italia Ce n'è poco E niente Fortunatamente Il problema però Da noi è diverso Perché mancano le persone Vogliono fare marketing Aiutare i progetti Open source A farsi conoscere Al di fuori Del nostro circoletto Che secondo me Oggi è lo scoglio Più grande Che ci impedisce Di fare Moltissime cose In confronto A tanti altri paesi Dove la sensibilità E l'attenzione Su queste cose E' molto diversa Però vi lascio Tutti i link Quindi Entrate nel gruppo Fate girare la voce Dobbiamo fare rete Tra tutti Non ci serve Soltanto gente curiosa Ma gente che vuole fare qualcosa Quindi se voi Volete fare qualcosa Come programmatori Contattatemi Che il lavoro Da fare Ce n'è Non ci servono Solo traduttori O gente Che fa tutorial Ma gente Che fa il materiale Per i tutorial Ci serve la base Qui E c'è una carenza Endemica Per usare un termine Molto che c'è stato vicino In questo periodo E stavolta Siamo anche All'ultima puntata Di cui parliamo Di progetti italiani Del mondo open source Dalla prossima Vireremo completamente Su un argomento Su un argomento diverso Per le puntate Non ho ancora Ben deciso quali Perché ho varie opzioni Anche proposte Da lungo tempo E quindi vorrei Incominciare Dalle cose più vecchie Ovvero Incominciare a parlare Di vari software Però onestamente Credo che sia Un materiale Trito a ritrito E che le potete Sentire da qualunque parte Anche che non credo Che avrei molto da aggiungere Quindi l'idea Non è che mi ispira Più di tanto Però vorrei cominciare Forse a parlarvi Delle comunità italiane Del mondo open source Per farvi conoscere Quello che c'è Intorno a voi E neanche avete idea E onestamente Spesso neanche io Perché qui l'unico modo Per scoprire le cose È cercare Su internet Però vorrei anche Cominciare a parlare Dei vari capitoli Del mio libro Quindi di vari argomenti Un po' più convolgenti Quindi ho varie idee E piano piano Le snoccioleremo Per usare un altro Mi piace proprio Dire sempre Un altro termine Forse è più Intercalare Oramai Comunque Quali sono Gli ultimi progetti Che parleremo Di questa puntata Beh se state ascoltando Il podcast Avete letto il titolo E quindi vi siete Spolerati Da soli Parliamo di Debian E Sabayon Sono due distribuzioni Linux Che sono uscite Dal mondo italiano La prima È una distribuzione Basata su Debian Per quelli Che non vogliono Systemd È nata Possiamo dire Dal gruppo Facebook Veteran Unix Administrator Che è italiano Il nome del gruppo Anche se c'è un nome Estero Possiamo dire Ed è su Facebook Sì Quindi strappatevi Tutti i capelli Che volete Le vestiti Quello che volete Però Sta di fatto Che è nato lì Ed è nato un progetto Che è uscito fuori È una distribuzione Che ho utilizzato tantissimo In ambito server Io Da utente Debian A me piace Systemd Onestamente Ha semplificato Tante cose Sia per un uso desktop Che un uso da server Forse c'è il problema Che Systemd Sta incominciando Ad allargarsi un po' troppo E vuole fare un po' troppe cose Però Secondo me Ad oggi È molto gestibile E bloccabile Cioè Non è che Lo accettiamo tutto Ce le prendiamo E basta Le cose Ma possiamo gestirle Però C'è questa realtà So che alcuni Ancora sono contrari A Systemd E non voglio starmi mettere Certo a discutere Da chi preferisce D'avere dei script bash Di centinaia di righe Per avviare dei servizi Invece di avere Un paio di configurazione Di 20 righe Cioè Ognuno è libero Di fare quello che vuole Però Siamo nel 2021 E certe cose Forse ora Anche di lasciarle perdere Di abbracciare Soluzioni un po' più Strutturate Che poi L'organizzazione del progetto Sia quello che è È un altro paio di maniche L'altro progetto Invece È Sabayon Che è una distribuzione Linux Molto più vecchiotta Che è basata Su Gentoo Gentoo Per chi non la conosce Una distribuzione Pensata che tu Quando restarli sul computer Prende e ti compila tutto È pensata Cioè Che tu Ogni software Te lo devi compilare Cioè quindi Il software sarà sicuramente Ottimizzato per la tua macchina Però Devi aspettare che si compila Quindi qualunque software Restarli Poi lo deve compilare E Gentoo È questo Sabayon È una distribuzione Modificata Onestamente Non so la differenza Perché io Gentoo Non l'ho mai utilizzata Non mi è mai Piaciuto questo mondo Di compilarmi tutto Cioè Io mi compilo i software Che mi servono Perché non ci sono O perché voglio Certe opzioni Già di base Ma sono due Ovvero Neovim È la sua Interfaccia grafica Cutty Non è che ho Tutti i software Sulla mia macchina Quindi la ritengo Un'eccessiva Scelta Però Come volete Potete fare Quello che volete Sabayon C'è E queste sono Le due distribuzioni Italiane Di cui ho voluto Raccontarvi Perché ce ne sono state Altre negli anni Tipo Danebolic Ma ferma Al 2011 E altre che non Sono nate morte Perché Ce ne sono troppe In giro E quindi io direi Di chiudere qui La puntata Ci vediamo La prossima settimana Probabilmente con questo Resoconto Delle sessioni Che lo devo solo trascrivere Vi dico anche Buon 2 giugno Che è domani E ci vediamo Alla prossima puntata E non esitate A lasciarmi i commenti Perché io sono sempre Aperto a tutte le vostre Proposte ed idee Ciao